Allarme bomba questa mattina in tribunale a Cremona alle 8.30 una telefonata anonima arrivata negli uffici del Palazzo di Giustizia avvertito dalla presenza di un ordigno. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fatto evacuare tutto l'edificio. I controlli e le operazioni di bonifica sono durati circa un'ora concludendosi attorno alle 9.30 quando l'allarme è rientrato confermando che si era trattato solamente dell'opera di un mitomane. Sull'episodio sta comunque indagando la Digos.